Professoressa Granaglia, nella percezione del benessere l'equità rappresenta uno degli elementi più importanti. Cosa suggerisce il BES per le politiche sociali? Il BES suggerisce diverse politiche, diversi interventi, però innanzitutto secondo me bisogna sottolinearne uno, cioè interventi che abbiano a cuore un'attenzione ai risultati. Noi molto spesso quando pensiamo alle politiche pensiamo più al disegno delle politiche, alla struttura, ai processi e invece il BES ha questa peculiarità di concentrarsi sui risultati. Penso ad esempio all'aspetto sanitario, molta attenzione data nel rapporto agli esiti, quindi alla mortalità, alle aspettative di vita, sia alla nascita sia a 65 anni, agli stili di vita e così via. E questo mi sembra essere un aspetto molto importante che tendiamo un poco a sottovalutare. Poi il BES però appunto, pur dando questa importanza ai risultati, guarda anche ai processi e quindi ad esempio l'ultimo dominio, adesso il penultimo comunque, uno dei 12 domini ha a che fare con la qualità dei servizi e quindi anche lì alcune indicazioni interessanti, viene fuori un dato preoccupante che riguarda ad esempio la distanza, la difficoltà per molti dei nostri concittadini di accedere a servizi fondamentali, quali possono essere pronto soccorso, servizi sanitari e così via. E ancora un altro punto, anche se riguarda non soltanto le politiche sociali in senso stretto, ma riguarda più il mercato del lavoro complessivamente, un dato importante, messo in evidenza dal BES, riguarda anche i lavoratori a bassa retribuzione, quindi fenomeni di povertà fra i lavoratori, il che ci sollecita a pensare a forme diverse di intervento che possono essere un insieme di regolazione dei livelli salariali, quindi più un intervento cosiddetto predistributivo nel mercato del lavoro, insieme a interventi ex post di sostegno a questi redditi, come potrebbe essere un credito di imposta ai lavoratori poveri e così via.